buona giornata amici e bentrovati alla nostra rassegna stampa oggi è mercoledì 19 gennaio 2022 il sole sorge alle 7.36 e tramonta alle 17.02 il santo del giorno oggi non abbiamo un santo solo ma abbiamo un'intera famiglia si tratta dei santi marta mario abaco e audiface martiri mario e marta erano marito e moglie abaco e audiface erano i loro figli erano di origini persiane allora come si usava si erano messi in viaggio per roma per visitare le tombe dei martiri dei santi e in questo caso contribuirono a seppellire tutta una serie di martiri che erano stati giustiziati dall'imperatore diocleziano sulla via salaria erano addirittura 267 cristiani che erano stati decapitati ma tutta la famiglia fu scoperta e quindi fu condannata fu processata fu condannata e tutti loro furono decapitati ecco perché dunque questa famiglia costituita dai santi mario marta abaco e audiface appunto è stata proclamata alla venerazione degli altari vediamo il tempo vediamo il tempo e vediamo che la situazione ancora per oggi rimane stabile il tempo è solleggiato in tutta la regione ma con foschie sul pesarese durante la mattinata abbiamo visto questa mattina una certa nebbiolina alleggiare appunto sulla costa temperature in lieve rialzo venti deboli e mare poco mosso quindi un tempo gradevole la temperatura poi si alzerà nelle ore centrali della giornata e cominciamo la nostra rassegna stampa questa mattina a partire dal resto del carlino sulla pagina di Fano e vediamo come l'apertura è dedicata alla crisi che incombe non soltanto la crisi sanitaria ma anche la crisi economica un po' su tutto il nostro territorio ma direi anche su tutta la nazione commercio itinerante in centro così risparmiamo sull'affitto e si tratta di trovare degli escamotage per cercare di risparmiare il più possibile e sempre più attività si spostano per abbattere le spese e vediamo come negozianti storici che avevano il loro negozio fisso in quel punto magari nel corso cittadino ora sono costretti a spostarsi per cercare migliori soluzioni i canoni malgrado la crisi non si sono abbassati infatti e i canoni d'affitto sono quelli che incidono di più sulle spese di gestione di un negozio il ragionamento che fanno i proprietari dice alessandro licurgo che direttore provinciale della confesercenti è quello di affittare e quello di non affittare subito magari di aspettare di affittare se non ritrovano un negoziante disposto a pagare la cifra che viene richiesta perché altrimenti dicono il locale si deprezza in questi giorni ci troviamo a far fronte alla ripartenza delle rate del mutuo dell'aumento degli affitti dice barbara marcolini che è la presidente della cof commercio ma dopo due anni di pandemia siamo ancora allo stesso punto la gente non gira per colpa appunto del virus del covid i proprietari raramente capiscono il momento e la difficoltà degli operatori economici ribadisce marco azzeni che è direttore della cof commercio dopo un periodo in cui hanno bozzato ora molti sono ripartiti aumentando gli affitti insomma la crisi non fa demordere a questi proprietari di appartamenti di negozi per così pretendere il loro dovuto quello che loro dicono che vale l'appartamento e questo è un bellissimo articolo che appare su entrambi i giornali questa mattina che l'abbiamo sull'arresto alcalino ma l'abbiamo anche sul Corriere Adriatico che riguarda il ritorno di un capolavoro a Fano un capolavoro assente da ben due anni e la predella attribuita in parte a Raffaello la predella che correda la grande pala di altare del Perugino che si trova a Santa Maria Nuova la vediamo in questa fotografia qui vediamo ancora la copia della pala perché l'originale è in restauro all'istituto centrale delle opere dure di Firenze mentre la predella che è questo quadro più piccolo diviso in scomparti è stata prima prestata a Durbino e poi a Città di Castello due mostre concomitanti che hanno così valorizzato sia il 500esimo anniversario di Raffaello sia l'attività di Raffaello Giovane a Città di Castello insomma sono state visitate da centinaia, migliaia direi di persone per quanto riguarda certo che la predella di Fano ha avuto il suo riscontro che merita e inoltre qui vediamo il sindaco e vediamo anche i tecnici dell'assessorato alla cultura con coloro che stanno riposizionando la predella nel suo alloggio di competenza nel suo alloggio tradizionale e vediamo che c'è tutto un programma di valorizzazione del perugino per i 500 anni della morte del pittore che cadono nel 2023 quindi un importante punto di riferimento perché per questi due anni tutti i turisti che sono venuti a Fano attratti da quello che dicevano le guide per quanto riguarda i capolavori insistenti in città andavano a Santa Maria Nuova per vedere la predella e vedevano soltanto una copia insomma una delusione, ad ora in avanti invece vedranno l'originale di cui forse c'è anche la mano di Raffaello Alto là dei piccoli comuni, dialogo con Marche Multiservizi o ce ne andiamo è il sindaco di San Costanzo che parla non solo per se stesso ma parla anche a nome degli altri sindaci che fanno parte dell'ambito sociale numero 6 sono 9 i comuni che fanno parte di questo ambito e fa portavoce dei malumori che insistono tra questi rappresentanti dei territori limitrofi a quello di Fano per i ritardi con cui il comune di Fano traccheggia insomma non ha intenzione di dialogare con Marche Multiservizi per poi tutti i trascorsi e le bellità della ditta pesarese di inglobare l'asset fanese. Una voce contro però perché in questo caso c'è Ilari che è il capogruppo consigliare della Lega e dice basta con questo disco rotto di dover dialogare con Marche Multiservizi parliamo invece delle manifestazioni di interesse che sono arrivate. Infatti c'è una commissione a livello comunale che sta valutando le manifestazioni di interesse che quattro ditte hanno presentato appunto per realizzare il digestore anaerobico. Carezza audace e apprezzamenti a giudizio è un articolo di cronaca che si riferisce a Colli al Metauro. Ebbene un 23enne di Fossombrone aveva rivolto attenzioni particolari non gradite diciamo così verso il fondo schiena di una 54enne. L'aveva individuata per strada e non ha resistito a imprimere il palmo della mano sul fondo schiena. Dovrà rispondere di violenza sessuale. L'episodio è successo a Calcinelli il 29 maggio dello scorso anno. E poi un aggiornamento del delitto Grilli. Due anni all'ex dell'omicida. Si tratta di una donna la compagna di Franco De Luca che sta ascoltando l'ergastolo per questo delitto che è successo a San Lorenzo in campo ve lo ricordate. La donna aveva cercato di fornire un alibi al suo compagno con false dichiarazioni in aula ma queste false dichiarazioni sono state scoperte sono state appunto smentite e quindi la donna dovrà scontare due anni appunto. La difesa comunque annuncia appello. Riscontri confermavano il racconto secondo l'avvocato che difende la donna. Troppi positivi a San Lorenzo in campo chiude l'asilo nido. Sono stati contagiati otto bimbi su 13 tra i sei e i trentasei mesi quindi covid dilaga anche tra i bambini più piccoli. Erano rientrati all'asilo dopo le feste e si tratta del nido comunale di San Lorenzo in campo centro per l'infanzia Peter Pan in via Pietro Nenni. Quindi attenzione anche ai bambini. E poi a terre roveresche il sindaco Sebastianelli annuncia un nuovo progetto di viabilità piuttosto bello. Lo vediamo qui in una fotografia in questo rendering. Più sicurezza con una nuova maxi rotatoria. Una maxi rotatoria con annessi nuovi marciapiedi al posto del vecchio e grande spartitraffico sul lato mare di Orciano che regola la circolazione verso San Giorgio di Pesaro e in direzione della statale 424 della Val Cesano. Quindi un incrocio di particolare importanza e molto frequentato. Questo comunque è l'ambizioso progetto redatto dall'amministrazione comunale di terre roveresche guidata appunto dal sindaco Antonio Sebastianelli. Vediamo ancora il resto del Carlino sulla pagina di Urbino. Ritorno all'antico. I giovani se ne vanno e i giovani veramente stanno lasciando la città ducale per cercare nuove prospettive sia per quanto riguarda gli studi che per quanto riguarda opportunità occupazionali. Il Carlino fa un reportage dal capoluogo agli angoli dell'entroterra una diaspora verso le città, un esodo senza fine. Sono sempre più i giovani infatti che se ne vanno richiamati dalla grande città, da percorsi di studi che portano lontano e da vite che si ricostruiscono lontano da quei torrecini che è il simbolo della città ducale del 400. Insomma un abbandono che impoverisce soprattutto l'aspetto comunitario, l'aspetto sociale di Urbino. E si parla in questo caso anche di sanità. C'è stato un dibattito in consiglio regionale sull'ospedale di Urbino che dovrebbe essere covid free. In realtà non lo è perché ogni tanto qualche positivo al virus viene ricoverato. Saltamartini, ospedale covid free Urbino. Vitri dice non è così. La consigliere regionale Michele Vitri ha controbattuto alle dichiarazioni dell'assessore regionale alla sanità ieri in consiglio regionale. Insomma è stata presentata una interrogazione insieme a Biancani a questo proposito ma la risposta data dall'assessore non ha convinto i proponenti. E intanto slittano i lavori al furlo. Feduzzi e Biancani chiedono di accelerare per liberare la statale che costeggia appunto il Candigliano da un masso che incombe. Insomma non è che è caduto però incombe ed è pericoloso per la viabilità. E poi invece a Piobico c'è una strada, una strada importante, che non è stata mai accatastata e quindi sembra che non sia di proprietà di nessuno. Si tratta di un percorso fantasma che sale da Acqua Nera, che è una frazione di Piobico, per 9 km fino a raggiungere il rifugio Corsini di Monte Nerone. E in questa fotografia, lo vediamo qui, abbiamo il consigliere regionale Rossi e l'assessore regionale Balbelli e il sindaco appunto di Piobico Urbini, Alessandro Urbini, che parlano di questa strada fantasma che sale appunto sul Nerone. Ed ora diamo un'occhiata alla pagina pesarese, anzi alle pagine pesaresi, dove si inizia e si continua a parlare dell'aumento del caro vita, soprattutto per quanto riguarda quei beni di prima necessità come il pane, le farine, la pasta. La pagnotta costa il 20% in più, i fornai, dice, siamo noi le vittime di consorzi e dei mercati. Chanel e Bonetti, aumenti minimi rispetto a quello che ci fanno pagare la farina. Ora il mezzo chilo è arrivato a 2,20 euro. E benvenuto Pagnoni, un altro operatore che lavora nel settore. Resistiamo finché possiamo, ma paghiamo i passaggi dal campo al mulino e non c'è più la tabella comune. Floro Bisello, che è un avvocato che rappresenta la DUSBEF, che è un'associazione di consumatori, gruppi di famiglie acquistano insieme e trattano il prezzo. È un modo questo per cercare di diminuire, di lenire gli aumenti che ci sono in giro, sono mai dappertutto. E quindi si cerca un espediente per cercare di calmierare il prezzo. Luce e gas piovono le bollette pazze, costi raddoppiati, così non si riesce ad andare avanti. E vediamo come sempre più i giornali si interessano di questo problema, perché è un problema contingente. Più che le discussioni politiche, più che magari gli spettacoli e altre cose magari di secondaria importanza, quello che interessa alla gente è il costo del caro vita. E il caro vita dall'inizio dell'anno è andato veramente alle stelle. Molte famiglie si trovano in difficoltà. costi raddoppiati, così non si va avanti, protestano i commercianti, le associazioni di categoria, decine di telefonate con richieste d'aiuto. La situazione è gravissima, ma se sono in difficoltà i commercianti lo sono ancora di più le famiglie. Invece per quanto riguarda la situazione edilizia, il mercato immobiliare si va, sembra, a gonfie vele. Appartamenti e boom di acquisti e gli affari si fanno in poco tempo. Il mercato immobiliare viaggia a tutto gas, con lo smart working e la didattica a distanza, la casa è diventata anche luogo per il lavoro e le elezioni. Ecco perché è aumentata la richiesta. Sembra comunque una causa non proprio, insomma, motivante al 100%, ma anche questo influisce. E torniamo alla sanità. Vediamo che come nel nostro territorio l'ospedale tra positivi e no vax deve fare a meno di 97 dipendenti per quanto riguarda appunto l'assetto sanitario. C'è un boom di isolamenti e di quarantene dopo il Natale. Rasori, che è il direttore delle professioni sanitarie, Stefania Rasori, dice, a lavori sanitari asintomatici, ma sarei molto cauta, afferma. Tutti i dipendenti in isolamento per accertata positività oppure in quarantena per contatto stretto sono gli ausiliari o gli OSS, gli amministrativi, i tecnici, gli infermieri, medici. Il virus ha battezzato un po' tutti, anche se la categoria più colpita è quella dei sanitari, perché sono i più numerosi. Dunque grandi carenze anche a causa della pandemia all'interno dell'ospedale sanitario. E in queste due pagine del resto del Carlino vediamo molte notizie di cronaca. Aggredisce due volte il controllore del bus, condannato a 15 mesi, un 27enne. E poi, o stai con me o ti ammazzo. Lo stalking che un 55enne falegname, residente in provincia di Ancona, ha compiuto nei confronti di una donna, una sarta 55enne originaria di Mondavio. Una sua compagna ha avuto due anni dal giudice. Natale Amaro, conto prosciugato di 2.000 euro. Una truffa che è stata compiuta online. Un impiegato ha messo in vendita su subito.it un tavolo e alcune sedie. Doveva incassare 250 euro, ma per un trucco che un truffatore ha compiuto si è fatto pagare otto ricariche a suo favore il truffatore. E quindi questo ha fatto sì che il conto corrente che era stato segnalato fosse stato prosciugato. 2.000 euro andati in fumo. Sradicava le persiane e me le tirava dietro l'inferno di una donna. Un altro caso di maltrattamenti ad una donna, l'inferno di una donna tra Pesaro e Dubai. Una storia tormentatissima questa con il compagno, un pesarese, di qualche anno più anziano, che lavorava al tempo nel settore commerciale di una grande azienda. E poi ancora folle di gelosia. Tampina la ex, un 36enne, finisce alla sbarra. Vedete quanti casi di violenza all'interno di una coppia. E poi lite sul parrocchiere, spunta un coltello a processo. Lei chiede al marito novantenne i soldi per rifarsi i capelli. Lui si rifiuta e poi arrivano i carabinieri. Ed ora diamo un'occhiata anche al Corriere Adriatico. Vediamo la pagina di Fano, dedicata al PRG, che è Tarda, che è Langue. Sono sette anni che si aspetta questo nuovo strumento urbanistico. E in questo caso è un esponente della maggioranza, Carla Luzzi, che stimola appunto la Giunta a elaborare questo nuovo piano che dovrebbe così prefigurare il futuro della città, almeno per i prossimi dieci anni. La maggioranza è in difficoltà. La consigliera Luzzi, chiamiamo chi l'ha visto, dice ironicamente, temi senza un quadro urbanistico. E dopo sette anni serve che il nuovo piano regolatore venga messo a disposizione della città. Poi abbiamo ancora il dibattito politico. In questo caso abbiamo il capogruppo della Lega Ilari, che si pone contro le liste civiche e azione. Un disco rotto su Aset, le liste civiche e azione, ve lo ricordo, avevano così insistito perché si ristabilisse un dialogo con marche e multiservizi. La Lega è completamente contraria. Ed ecco qui l'articolo che riguarda il ritorno della predella di Raffaello. Turre dal 2019 in due mostre di questo capolavoro, a Urbino e Città di Castello. Adesso alla pala del Perugino e al restauro a Firenze, la parte superiore, mentre la parte inferiore è tornata a Santa Maria Nuova. La misura funziona. Tinti ha perso tempo, lo afferma il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, in replica alle dichiarazioni dell'assessore al welfare Dimitri Tinti, che aveva criticato l'esito di quel provvedimento che dà dei contributi a chi è senza lavoro, insomma il reddito di cittadinanza. Tinti l'aveva criticato, invece il Movimento 5 Stelle lo difende. Insomma non è andato tutto come si desiderava, però sono solo due anni che è in vigore questo provvedimento, ce ne vorranno dieci perché tutto vada a regime, secondo i pentastellati. È cambiata la dirigente di Enel, riviato per ora i lavori sulla strada del Furlo. La risposta di Aguzzi all'interrogazione del PD Biancani sulla data però non c'è al momento alcuna certezza. E insistono appunto con gli operatori economici che lavorano su questa strada, perché insomma se la strada è chiusa non c'è traffico e loro non lavorano. Invece a Colli al Metauro si evidenzia questo kit che viene dato ai neonati, magari per incentivare qualche nascita in più, ai neogenitori dei bambini nati a Colli al Metauro. dal primo ottobre viene consegnato un kit del valore di 25 euro che così dona un po' tutte quelle cosine che servono per i primi giorni di vita di un bambino. Uno shampoo per il bagnetto, una coperta di mussola, un ciuccio, un cotone organico, insomma tutte queste cosucce che servono sono molto comodo per le famiglie, per le giovani coppie. Creava l'alibi all'omicidio condannata l'ex fidanzata, anche su questa pagina del Corriere Adriatico si parla del delitto Grilli e poi vediamo che invece a Senigallia si stabilisce un tutor fisso lungo la complanare, tolleranza zero a chi corre troppo, ovvero chi supera i limiti di velocità. Insieme a due tirede nei semafori farà multe stimate dal Comune per un milione di euro l'anno, così si pensa che saranno le trasgressioni alle limite di velocità. Sono in arrivo un tutor fisso da installare sulla complanare, mentre un altro autovelox è già in azione nelle frazioni dove sono stati incrementati i controlli. Ebbene il Comune di Senigallia nel 2022 dichiara guerra a chi non rispetta il codice della strada. Toleranza zero dunque in particolare verso quanti supereranno i limiti di velocità e passano soprattutto con il rosso. Ebbene se il Comune ha posto un milione a bilancio un milione di euro vuol dire insomma che le trasgressioni non mancheranno. E poi ci sono ancora telecamere in arrivo anche nelle frazioni è prevista pure la presenza del vigile del quartiere. Il Sindaco annuncia controlli sui giovani e sui bandali in modo particolare. Angeli del Covid maltrattati in trincea, nonostante il lavoro che fanno, un lavoro difficile e un lavoro stressante, subiscono anche maltrattamenti. Si tratta del personale sanitario. Attesi troppo lunghe, partono insulti. I medici del servizio di prevenzione finiscono nel mirino di cittadini senza pazienza né rispetto per il lavoro che fanno. E veniamo anche alla pagina di Pesaro dove si parla ancora di sanità e c'è una risposta non molto soddisfacente dell'assessore alla sanità Filippo Saltamartini che annuncia l'impegno di altri dieci posti letto di intensiva invece di aumentare il personale. Non c'è l'alleggerimento del carico Covid promesso dall'assessore Aricci. Protesta la consigliere regionale Ruggeri, contratto il diritto alla salute dei cittadini del Pesarese. E questo nell'ultima seduta del Consiglio regionale. Spaccio e degrado, nuove telecamere tra parco e stazione. È l'assessore Belloni che interviene per quanto accade al parco Miralfiori. Controlli e manutenzione al lavoro che percepisce il reddito di cittadinanza che viene impiegato in queste incombenze. Nella strategia di sorveglianza anche la volontà di diradare il sottobosco vicino ai binari. Il progetto riguarda anche il monumento della resistenza. E qui vediamo una superficie dell'ex AMGA, questa area tormentata che da tanto tempo aspetta per essere riqualificata. Ebbene migliorano le analisi del sottosuolo. Ora la fase 2 comporta le piantumazioni. C'è stata una riunione tecnica che sta considerando questo in comune con le ditte, gli enti e tutti i soggetti interessati. Il cronoprogramma rispettato, dice l'assessore Morotti, risultati incoraggianti. Adesso spazio al verde, quindi alle piantumazioni. Quintus, un microcosmo del futuro. Il rione vince il bando della cultura. È un bando che l'amministrazione comunale di Pesolo ha emesso tra i quartieri della città. Ha vinto il quartiere 5, che comprende Vismara, Catabrighe, Torraccia, Treponti e Roncaglia. È il vincitore appunto del secondo bando di capoluogo della cultura lanciato dal comune. Il progetto che ha presentato si chiama Quintus. Cercheremo, hanno detto i portavoce del quartiere, cercheremo di promuovere la diffusione di contenuti culturali ed educativi, come anche l'inclusione sociale. Una figuraccia per tutta la città, per quanto riguarda la rinuncia ai giochi del Mediterraneo Beach, insorge l'opposizione, ma Ricci non si assume la colpa. Dice che in fin dei conti era la città che avrebbe pagato caro questa manifestazione, che costava non poco, però ci si poteva pensare prima, si afferma. Cerchiamo ancora la pagina, siamo ormai in conclusione e vediamo come si parla anche qui dell'incidente mortale che si è verificato in autostrada, condannato il giovane autista del camion. Nell'incidente morirono due volontari dell'EMPA, insomma, che si dedicavano alla cura degli animali. Era l'ultima notizia. Massimo Foghetti vi saluta, vi dà appuntamento come sempre a domani alle ore 7. Buona giornata.